ciao a tutti questo è il podcast di pagella politica e io sono tommaso canetta nella puntata di oggi abbiamo come ospite lorenzo ruffino nostro collaboratore che dall'inizio della pandemia ha fatto un lavoro devo dire davvero egregio sui numeri e sui dati e che sulla base di questi ha scritto per noi diverse analisi ciao lorenzo ciao tommaso allora per prima cosa vorrei partire da una notizia positiva cioè che i vaccini funzionano stavolta non bisogna fidarsi della scienza o degli scienziati degli studi delle pubblicazioni e quant'altro per dirlo ma basta credere ai propri occhi e soprattutto ai numeri partiamo da chi è stato vaccinato primo cioè gli operatori sanitari e gli ospiti delle rsa che cosa ci dicono quegli dati i dati su questo sono ottimi il sistema di sanità ormai da diverse settimane confronta i contagi tra gli operatori sanitari con quelli che si hanno nella popolazione generale cioè tutti i casi senza quegli operatori sanitari e si vede che dopo due settimane dall'inizio della campagna il 27 dicembre le due curve hanno avuto un andamento divergente i vaccini quindi hanno iniziato a fare effetto i contagi tra gli operatori sanitari sono diminuiti quando poi è iniziata la terza ondata i casi della popolazione generale hanno continuato a salire mentre quelli tra i sanitari hanno continuato a scendere per dare un'idea i sanitari rappresentavano prima il 5 o 6 per cento dei casi totali ma questa percentuale è ora è scesa intorno all'1 per cento ed è stata anche sotto questa soglia c'è anche uno studio italiano condotto sugli operatori sanitari di treviso che è stato fatto del suo suprisonità e che mostra che il vaccino pfizer ha un'efficacia contro la malattia sintomatica e l'infezione sintomatica cioè l'infezione in sé dell'83 per cento tra 14 e 21 giorni dopo la prima dose del 94 per cento sette giorni dopo la seconda dose quindi quando un è vaccinato sostanzialmente con il vaccino pfizer non contrae neanche più l'infezione quindi l'aver vaccinato un gruppo così specifico di persone ci ha permesso di vedere sin da subito e chiaramente che qual era l'effetto dei vaccini e che stavano funzionando anche in italia per quanto riguarda le case di riposo invece non esistono dei dati così chiari ma l'ISS raccoglie i luoghi dove ci sono stati i focolai ricordiamo che con focolai noi andiamo a intendere due o più casi tra di loro collegati i grafici diffusi dall'ISS mostrano chiaramente che dopo l'inizio di vaccinazione in case di riposo i focolai si sono ridotti moltissimo quasi azzerati e questo è estremamente importante perché noi sappiamo che le RSA sono dei luoghi con la popolazione più vulnerabile in proprio modo nella prima ondata se ne è parlata molto per quello che è successo in Lombardia e rappresentano un'importante parte dei decessi che abbiamo visto nell'ultimo anno quindi proteggendo le RSA si vanno a ridurre anche i decessi. Queste sono davvero buone notizie tra l'altro di quello che hai detto mi colpisce particolarmente in positivo il fatto che quando è arrivata l'ultima ondata chi era vaccinato quindi appunto la categoria degli operatori sanitari ha visto i contagi continuare a scendere mentre chi non era vaccinato il resto della popolazione purtroppo li ha visti salire. Questo come dire ci autorizza a un direi fondato ottimismo di fronte appunto alla possibilità che in futuro il virus circoli se avremo appunto una vaccinazione diffusa nella grande maggioranza delle persone non avremo appunto gli stessi numeri di contagi e via dicendo. Ma veniamo invece adesso a quello che è stato il risvolto più drammatico della pandemia cioè i tanti ricoveri e i tanti decessi concentrati soprattutto nella popolazione anziana. Qui come stanno andando le cose? Abbiamo terreno già adesso per dire che anche in questo ambito si iniziano a vedere i primi risultati dei vaccini? Allora senza dubbio vediamo anche gli effetti qui anche se sono più complessi da vedere noi li vediamo nei dati quotidiani ma i dati che diffonde il suo soccorso di sanità ci permettono di vederli. In per il modo lì il suo soccorso di sanità va a diffondere le età mediane dei ricoverati. L'età mediana è un indicatore particolarmente utile perché va a dividere la popolazione a metà. Se noi sappiamo che l'età mediana è 70 anni vuol dire che metà delle persone ricoverate ha meno di 70 anni e metà delle persone che è ricoverata ne avrà di più. L'età mediana dei ricoveri nelle settimane precedenti inizio della vaccinazione era su circa 75 anni quindi metà persone ha più 75 anni e metà meno. A inizio febbraio quando sono stati vaccinati innanzitutto i residenti nelle case di riposo la mediana è scesa a 69 anni poi abbiamo vaccinato gli over 80 e l'età mediana è scesa fino a 64 anni. Cioè la vaccinazione dei più anziani fa sì che questi non abbiano più bisogno del ricovero in quanto vanno a manifestare sintomi lievi o non si contagiano proprio e quindi abbiamo un progressivo abbassamento dell'età mediana e questo continuerà a succedere finché non andremo a vaccinare anche i più giovani. Un altro indicatore che ci permette di vedere l'effetto dei vaccini è il tasso di incidenza delle ospedalizzazioni per facilità cioè il numero di ricoverati per facilità in relazione alla numerosità di quella facilità nella popolazione. Anche questo viene un dato che viene diffuso dalle sue superiore sanità da alcune settimane e sebbene la popolazione over 80 rimanga quella con i maggiori tassi di ricovero perché ovviamente per loro la malattia è molto più grave che per le fasce più giovani essendo una malattia che colpisce in primo modo le persone anziane il calo si sta avendo un calo che è maggiore rispetto a quello delle altre fasce e questo appunto è quello che sta portando ad avere il calo dell'età mediana. Per quanto riguarda i decessi è più complicato perché non abbiamo moltissimi dati e i decessi sono sempre molto in ritardo possono servire fino a 30 o 40 giorni prima di poter vedere un effetto perché una persona viene vaccinata devono passare circa almeno due settimane prima che il vaccino possa iniziare a fare effetto. Poi servono fino a cinque giorni tra quando ci si contagia e quando si hanno i sintomi poi altri 12 15 giorni tra quando si risulta i sintomi e quando si muore e poi il decesso deve essere notificato dall'ospedale o da dove è avvenuto alla regione che poi lo comunica al ministro della salute quindi serve molto tempo prima di poter vedere un effetto sui decessi però anche questo si sta vedendo perché l'ISS fornisce l'età mediana che sembra la solita e a dicembre noi abbiamo visto che i decessi i deceduti per covid 19 avevano circa 83 anni a metà febbraio avevano 82 anni a metà marzo hanno 80 ne avevano 81 e adesso 77 quindi l'immagine mediana dei decessi continua a calare anche se il calo comunque è lento per i motivi che abbiamo detto cioè serve molto tempo prima di poter vedere un netto effetto ma comunque è considerato che i decessi di over 80 sono passati all'essere circa 65 per cento all'inizio gennaio al 44 per cento dell'ultima settimana quindi questo calo che continuiamo questo calo degli over 80 vuol dire che semplicemente meno over 80 stanno morendo proprio grazie al fatto che il vaccino sta facendo effetto e va a prevenire le forme più gravi della malattia infatti mi sembra molto incoraggiante questo abbassarsi dell'età mediane nei recovery anche nei decessi perché all'abbassarsi dell'età si abbassa anche il numero di recovery e decessi perché sappiamo appunto che tanto più una persona anziana tanto più è statisticamente probabile che finisca ricoverato in terapia intensiva e purtroppo che rischi anche di morire tanto più queste età si vanno abbassando tanto più anche il numero di recovery in terapia intensiva e di decessi è probabile che si riduca quindi appunto anche da questo punto di vista una buona notizia ora so che ti chiedo praticamente di scrutare le interiora degli uccelli e predire il futuro ma in base ai dati che vedi quotidianamente e a quello che ci hai appena raccontato secondo te tra quanto potremmo dire di essere del tutto fuori sempre toccando ferro che non arrivino novità spiacevoli su fronte varianti o simili allora valutare cosa succede in futuro appunto non è semplice perché abbiamo visto in questo ultimo anno che ci sono mille fattori in gioco noi però appunto sappiamo che i vaccini vanno a proteggere dalle forme più gravi delle malattie e vanno a evitare quasi tutti i ricoveri e decessi quindi se noi continuiamo a vaccinare la parte più a rischio della popolazione che indicativamente possiamo dire che sono quali sopra i 50 anni ma in paramodo gli over 80 arrivando ad altri stasi di copertura come il 90 95 per cento di persone vaccinate in queste facilità allora noi avremo una progressiva riduzione della pericolosità complessiva del coronavirus che a un certo punto potrebbe essere simile a quello di un'influenza stagionale perché quando una persona si contagia appunto o non succede nulla o ha sintomi molto lievi e quindi quelli che muoiono sono una piccola minoranza questo però vale a livello complessivo cioè per la persona per la società nel suo complesso mentre per la persona non vaccinata la letalità in caso di contagio rimane la medesima quindi è fondamentale vaccinarsi questo è uno scenario che potremmo già raggiungere forse quest'estate perché appunto la letalità del coronavirus aumenta incredibilmente con l'età quindi dopo che si sono vaccinate una certa fascia della popolazione sostanzialmente si vanno ad azzerare i decessi o quasi a ridurre incredibilmente i ricoveri quindi e visto che ormai siamo ad un punto con queste fasce più a rischio è possibile che già quest'estate o magari a settembre il coronavirus non sia quasi più un problema per complessivamente che quindi si può tornare davvero a una quasi normalità comunque proteggere il più a rischio è comunque fondamentale non si può fare affidamento sull'immunità di greggio perché comunque con queste varianti sempre più trasmissibili la soglia di persone da vaccinare per raggiungere l'immunità di greggio continua a crescere ogni volta di più quindi è fondamentale che si continuino a vaccinare tutti o almeno quasi tutti coloro che sono davvero a rischio quando vengono contagiati è uno dei problemi di questa mancata immunità di greggio perché appunto come dicevi giustamente tu il vaccino ripara te che te lo fai ma non al 100% elimina il rischio che tu possa contagiare altre persone questo appunto è davvero una crudere ingiustizia nei confronti di quei soggetti particolarmente fragili che non possono vaccinarsi mentre mi sembra tutto sommato quasi come dire un giusto e divino contrappasso nei confronti dei novax che in questo caso non potranno come dire andare a rimorchio del buonsenso della maggior parte delle persone che si vaccinano e creano quindi un'immunità di greggio ma in questo caso appunto se insisteranno nel non volersi vaccinare rischiano davvero di pagare le conseguenze delle proprie scelte ma restiamo sempre in ambito di vaccini anche se cambiamo un po' angolazione abbiamo detto che i vaccini funzionano questa è una bellissima notizia ma possiamo dare il merito al governo del buon andamento della campagna vaccinale cioè noi che ci occupiamo di politica sentiamo soprattutto adesso che c'è un governo di unità nazionale e che quindi interessa praticamente a tutte le forze dello schieramento lo dare per i successi quantomeno sulla campagna vaccinale lo vediamo spessissimo che gli viene attribuito il merito appunto di aver aumentato tantissimo le vaccinazioni e quindi di avere un buon impatto appunto sul sull'andamento dell'epidemia ma se guardiamo a come andavano le cose durante il precedente governo e soprattutto se guardiamo a come stanno andando le cose negli altri grandi paesi dell'Unione Europea che considerazioni possiamo fare a questo proposito? Il governo ha complessivamente un ruolo marginale nella campagna vaccinale in Italia la sanità ha una competenza regionale quindi ogni regione si gestisce le vaccinazioni sostanzialmente come meglio crede, si organizza, ci sono portali diversi, priorità diverse, sistemi diversi è tutto diverso, ogni regione fa una cosa a parte quindi il governo anche volendo non può fare molto a meno che non decida di andare a sostituirsi alle regioni cosa che però nessuno ha fatto o intende fare quindi eventuali accelerazioni o rallentamento sono in gran parte dovuti a come le regioni in quel momento si stanno organizzando e su cosa stanno facendo i confronti tra il governo Conte e il governo Draghi poi sono complessi da fare e spesso possono essere travisanti perché tra gennaio e febbraio in Italia c'erano poche dosi a inizio gennaio molti sostengono che bisognava se vaccinare per 24 ore al giorno ma in realtà le dosi che avevamo in quei giorni ci permettevano di fare 60-70 mila somministrazioni al giorno oltre non saremmo pur di andare perché sostanzialmente altrimenti avremmo finito le dosi in un giorno e poi gli altri giorni non avremmo più fatto nulla adesso abbiamo una media di circa 470 mila somministrazioni e questo è il ritmo che noi possiamo mantenere in questo momento finché non aumentano le forniture perché altrimenti di nuovo vacciniamo tanto alcuni giorni e poi non vacciniamo altri quindi in generale il governo non può fare molto quello che il governo può andare a fare è più che altro indirizzare le regioni si era fatto inizialmente con il piano vaccinale e poi attraverso le ordinanze del generale Figliuolo o andare a fissare degli obiettivi per spingere le regioni a rispettarli una caratteristica che si è vista in questa campagna vaccinale è che le regioni spesso si sentono in qualche modo in concorrenza tra di loro e quindi quando una peggiora spinge poi per migliorare per far vedere che sta facendo anche lei bene c'è comunque da considerare che è vero che a gennaio l'Italia non sembrava particolarmente preparata per fare le vaccinazioni non c'era una piattaforma la piattaforma di posta è quella che poi è stata adottata ad esempio dalla Lombardia e non era ancora pronta non c'erano le strutture c'erano solo i progetti per le primule ma poi non era stato messo in campo quasi nulla quindi la campagna vaccinale in Italia si è stata organizzata tra gennaio e febbraio e infatti abbiamo visto che stavendo il passaggio tra gli operatori sanitari che vengono vaccinati direttamente negli ospedali o nelle strutture delle asle quindi sono molto facili da raggiungere da vaccinare a vaccinare la popolazione generale e in quel modo gli over 80 che hanno problemi di deambulazione bisogna organizzare il dettaglio bisogna capire come andare a raggiungerli a convincersi a vaccinarsi ci sono state delle difficoltà in quel momento anche se poi comunque le regioni sono riuscite a ingranare e migliorare il minimo ruolo del governo nella campagna vaccinale lo vediamo appunto anche invece dal confronto con il resto d'Europa se noi guardiamo i principali paesi Italia, Francia, Spagna e Germania per rimanere su quelli grandi comunque un po' più simili sono a livelli molto simili sul numero di dosi somministrate ci sono alcune differenze su primo e seconda dosi in base alla strategia adottata dai vari stati sul rinvio dei richiami però complessivamente sui livelli di dosi sono molto simili che se il problema fosse l'efficienza a campagna di vaccinazione e non la disponibilità di dosi noi ci attenderemo di vedere alcuni paesi molto avanti ad esempio ci aspetteremo magari che la Germania sia avanti perché è più efficiente o più organizzata rispetto a noi è comunque vero che alcuni paesi sembrano avere una maggiore capacità di vaccinazione l'esempio è proprio la Germania la Germania riesce in settimana a fare oltre un milion di somministrazioni al giorno per poi scendere molto nei giorni festivi e per tenere quindi una media simile a noi però è in grado in un singolo giorno di fare molta più vaccinazione di quello che sembra essere in grado di fare l'Italia è quindi possibile che quando avremo un maggior numero di dosi alcuni stati accelereranno sensibilmente rispetto a noi Hai parlato giustamente di competizione tra le regioni e chiudo con una domanda quindi appunto di politica diciamo locale nell'ultima settimana ci è capitato di analizzare diverse affermazioni di presidenti di regione ad esempio Luca Zaia del Veneto o Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna che rivendicavano un qualche primato nelle vaccinazioni per la regione da loro amministrata Ora al di là della correttezza o meno di queste affermazioni e consiglio ovviamente ai nostri ascoltatori eventualmente interessati di andare su www.pagellapolitica.it per scoprire i nostri verdetti dicevo al di là della correttezza di queste affermazioni ti chiedo Lorenzo quali sono secondo te e secondo quali criteri le regioni migliori e quali invece le peggiori nella campagna vaccinale e ovviamente da cosa dipendono queste buone o cattive prestazioni diciamo che la domanda che ti faccio è ma possiamo prendercela coi governatori in carica e da Lombardo questa questione ovviamente la sento particolarmente viste come dire anche le critiche molto aspre che sono state rivolte alla gestione della sanità nella regione in cui vivo oppure si tratta di situazioni magari vecchie di decenni che sono state ereditate o oggettivamente non modificabili insomma su cui poco si poteva fare in qualche mese Lorenzo tutto per valutare quanta efficienza è una campagna vaccinale sostanzialmente guardiamo a quanto è stata coperta la popolazione anziana appunto per tutte le cose che abbiamo detto e all'efficienza nell'utilizzo delle dosi allora in linea di massima non ci sono grandissime differenze tra le regioni perché comunque abbiamo detto che il numero di dosi è limitato facciamo già a livello nazionale il massimo che possiamo fare la distribuzione delle dosi è proporzionale alla popolazione quindi ogni regione ha sostanzialmente il numero di dosi e le differenze non sono enormi alcune regioni però hanno fatto meglio di altre per modo la vaccinazione degli over 80 è un esempio gli over 80 appunto sono fondamentali da vaccinare perché la letalità tra di loro arriva fino al 10% e noi vediamo che Veneto, Umbria, Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna sono arrivati a vaccinare intorno al 95% se non oltre cioè virtualmente hanno vaccinato tutti quelli che potevano essere vaccinati o tutti quelli che erano disponibili andando anche probabilmente oltre ci sono alcuni casi in modo di Calabria e Sicilia che invece sono più preoccupanti perché qui la vaccinazione dei più anziani è arrivata solo agli over 80 solo al 75% quindi ci sono ancora migliaia di persone che non sono protette e che in caso di contagio hanno una probabilità considerevole di finire in terapia intensiva o addirittura di morire per quanto riguarda le altre facilità è ancora più complicato valutare perché se per gli over 80 la campagna di vaccinazione è quasi finita cioè si stanno proprio vincendo gli ultimi o si stanno andando a vaccinare quelli che non sono trasportabili tra i 60 e i 79 anni invece la campagna vaccinale è tutta rincorso ci sono alcune differenze ci sono però delle situazioni un po' più preoccupanti in modo nel sud Italia dove diverse regioni sostanzialmente non si stanno impegnando molto a cercare di raggiungere queste persone e a convincerle a vaccinarsi ma hanno preferito praticamente fermare le vaccinazioni in queste facilità e andare a concentrarsi già sui più giovani cioè su coloro che hanno meno di 60 anni o anche meno di 40 in questi ultimi giorni si sta molto ricorrendo ai cosiddetti open day dove chiunque può andare a vaccinarsi e quindi si stanno vaccinando persone molto giovani che però non hanno davvero bisogno di essere vaccinati in questo momento il nostro principale obiettivo dovrebbe essere vaccinare coloro che sono davvero a rischio per quanto riguarda l'efficienza anche lì appunto i livelli sono simili continuano a eserci delle differenze in qualche modo nell'utilizzo del vaccino AstraZeneca che è stato al centro di grandissime polemiche osserviamo delle difficoltà in Basilicata, Sicilia, Sardegna, Trento o anche a Bolzano in assoluto le migliori regioni per l'efficienza nelle vaccinazioni sono sostanzialmente Lombardia, Veneto e Puglia vediamo in proprio modo col caso della Lombardia come comunque una regione, se ha un'organizzazione vera a un certo punto anche se non è parita bene può sensibilmente migliorare la Lombardia per esempio è stata criticatissima a marzo poi quando la macchina si è messa in moto ha iniziato a vaccinare a ritmi molto alti arrivando a vaccinare anche 100.000 persone in un giorno e quando nei primi giorni in cui abbiamo raggiunto le 500.000 somministrazioni era in particolar modo merito della Lombardia per ora comunque non vediamo enormi differenze anche se è possibile appunto che quando avremo una maggiore disponibilità di dosi a quel punto differenze organizzative che magari vengono da lontano si possano vedere Ti faccio un'ultima domanda proprio flash come mai secondo te sul vaccino AstraZeneca ci sono regioni in cui le percentuali di rifiuto sono bassissime come appunto la Lombardia e il Veneto e altre invece in cui consistenti fasce della popolazione hanno rifiutato appunto di ricevere il vaccino sapendo che era AstraZeneca considerato che come dire l'informazione che poi è stata in molti casi anche sbagliata esagerata, allarmistica ne abbiamo parlato però credo sia stata abbastanza omogenea a livello nazionale come mai invece le differenze territoriali così forti secondo te? È difficile rispondere anche perché noi non abbiamo dei veri dati sui tastieri di rifiuto si leggono solo testi giornali o comunicati stampa probabilmente, visto che sembrano essere maggiori per modo nella regione del sud Italia è possibile che ci sia una diversa percezione del rischio cioè una persona nel nord è stata la zona più colpita in questo ultimo anno ed è possibile che quindi le persone percepiscano in modo maggiore il rischio e decidono di vaccinarsi mentre in regioni meno toccate dall'emergenza si percepisca meno il rischio di che cosa succede quando c'è un'altra circolazione virale e quindi le persone percepiscano rimandare la vaccinazione sperando che gli venga fatto Pfizer o Moderna va comunque considerato che a volte c'è il rischio la possibilità che l'idea che ci siano altri rifiuti di AstraZeneca che in realtà sia un po' un modo per giustificare la non ottima organizzazione della campagna vaccinale dicendo beh non vogliono farlo quindi non è un nostro problema ma quando probabilmente se si andasse a cercare di contattarli direttamente con una campagna di chiamata attiva comunicazione o quant'altro si potrebbe convincerli a vaccinarsi molto molto interessante grazie allora a Lorenzo Ruffino grazie a te ed eccoci con la rubrica di The Banking con la nostra Camilla Vagnozzi ciao Camilla ciao Tommaso allora oggi passeremo in rassegna dei casi di disinformazione che si sono diffusi in Italia e che riguardano uno dei principali argomenti di cui si è parlato nell'ultima settimana e non solo cioè le violenze che sono esplose tra Israele e i gruppi armati palestinesi della striscia di Gaza Hamas e la jihad islamica ora si tratta di una questione estremamente delicata e complessa su cui ci sono delle sensibilità fortissime e spesso inconciliabili anche in Italia noi qui ovviamente non prenderemo alcuna posizione sul conflitto in corso non è del resto il nostro ruolo e ognuno ha diritto alle proprie opinioni ma ci limiteremo a mettere in fila alcuni casi di disinformazione che hanno riguardato gli ultimi sviluppi della situazione israelo-palestinese l'escalation è partita lo scorso 10 maggio le violenze sono rapidamente cresciute di intensità così come il numero dei morti soprattutto dal lato palestinese nelle ultime ore però pare si sia raggiunta una tregua la situazione è comunque molto fluida e quindi le cose potrebbero davvero cambiare da un momento all'altro ma diciamo che dopo giorni di scontri con centinaia di vittime anche civili diciamo che finalmente sembra essere arrivata una buona notizia ma adesso Camilla torniamo alla disinformazione in senso stretto e ti lascio la parola grazie Tommaso e grazie anche per questa parentesi sicuramente utile visto appunto il tema delicato e quello che andremo a dire tra poco allora prima di cominciare con la vera e propria rassegna dei principali casi di disinformazione che hanno riguardato il conflitto israelo-palestinese negli ultimi giorni e che abbiamo trattato all'interno della redazione di FACTA apro una piccola parentesi su qualche modo in generale di riflessione sulle notizie false o fuori contesto in cui ci siamo imbattuti basandoci sul nostro lavoro e sulle segnalazioni ricevute da parte dei nostri lettori ho notato che almeno fino ad ora sul conflitto la disinformazione è stata diffusa coprendo soprattutto quattro macro argomenti che poi venivano trattati come spesso sappiamo che accade come meglio conveniva nei diversi casi per rendere la disinformazione quanto più credibile possibile entrando nel dettaglio parliamo di una serie di case di disinformazione con protagonisti bambini la cui narrazione li indicava come vittime del conflitto o categorie direttamente coinvolte in esso in questi casi come vedremo a breve con una veloce carrellata e come poi potete scoprire leggendo gli articoli che abbiamo pubblicato la disinformazione era sempre accompagnata da una fotografia reale che mostrava un bambino o una bambina ma totalmente decontestualizzata un altro filone è quello poi dei cadaveri che fingono di esserlo esempio di disinformazione in cui spesso ci siamo imbattuti anche parlando di tutt'altro tema e quindi le vittime covid cioè i cosiddetti finti funerali video che mostrerebbero persone in scenare dei funerali o la figura stessa del cadavere che poi in realtà o per un motivo o per l'altro si risvegliano non sono poi mancati anche case di disinformazione che hanno riguardato il rapporto tra Gaza e altri paesi coinvolgendo ad esempio l'Egitto oppure la decontestualizzazione geografica di materiale video che però proviene in realtà da Siria o Giordania e ancora ci siamo anche imbattuti nella disinformazione prettamente politica se possiamo insomma così definirla che ha direttamente coinvolto Benjamin Netanyahu primo ministro israeliano dunque fatta eccezione per l'ultimo caso appunto prettamente politico già solo dai macro temi che vi ho presentato è evidente come si tratta di una disinformazione interessata a quelli che sono gli aspetti più brutali e disastrosi del conflitto e che fa leva sui sentimenti che dei contenuti di questo tipo scatenano automaticamente nel pubblico basti pensare appunto o al coinvolgimento di bambini o al credere di vedere delle vittime dei reali defunti in qualche modo ricordiamo infatti che più in generale le notizie false diffuse più o meno intenzionalmente tendono a far leva proprio sulle nostre emozioni e spesso provocano sdegno shock paura compassione la disinformazione che fino ad ora abbiamo visto sul conflitto israelo-palestinese ha provocato proprio lo stesso risultato diventando automaticamente virale e ingenuamente per chi credeva che si trattasse di notizie vere veicolo anche di denuncia di una situazione che per quanto sia sicuramente tragica sui social network è stata purtroppo e troppo spesso travisata chiusa questa piccola parentesi passerei appunto alla breve carrellata dei casi di disinformazione di cui ci siamo occupati così da fornire da una parte degli esempi ad ascoltatrici e ascoltatori e poi al solito anche per spiegare come stanno davvero le cose nel caso in cui i nostri ascoltatori si siano purtroppo perché può capitare a tutti imbattuti nei contenuti che andremo ad analizzare procediamo con la carrellata al solito ricordo che tutti gli articoli di cui parliamo li potete trovare sul sito www.facta.news e direi di procedere seguendo l'elenco tematico che hai fatto prima e quindi partiamo dai casi di disinformazione che hanno direttamente coinvolto dei bambini si certamente allora come anticipavo le caratteristiche comuni di questi casi di disinformazione sono due da una parte il coinvolgimento diretto di bambini e dall'altra la presenza di fotografie che mostrano dei bambini reali sono foto reali non sono foto modificate dove sono stati inseriti i bambini ma totalmente decontestualizzate ad esempio abbiamo visto uno scatto che è mortale a un bambino pulire del sangue sul pavimento e si sosteneva che fosse un giovanissimo della striscia di Gaza incaricato di pulire il sangue delle vittime in realtà si tratta di uno scatto che risale a nove anni fa quindi non una fotografia del 2021 è stato fatto in Giordania e mostra un bambino ripulire del sangue di una mucca all'interno di una macelleria o ancora abbiamo visto la foto di una bambina con addosso un vestito verde e bianco e che secondo alcuni utenti social era deceduta a Gaza lo scorso 17 maggio in realtà le foto della bambina compaiono su un profilo Instagram attivo in Russia e lo stesso giorno quindi il 17 maggio scorso è stato anche pubblicato un video di questa bambina che la mostrava divertirsi in un parco giochi insieme alla madre oppure altro caso è diventata virale la foto di un'altra bambina che raccoglieva dei libri tra le macerie in quest'ultimo caso si tratta di uno scatto reale scattato a Gaza non nel 2021 però nel 2014 come però anticipato i bambini non sono stati gli unici protagonisti della disinformazione si è parlato anche di finte vittime è stato più volte condiviso su Facebook un video che dimostrerebbe stando a chi la pubblicata dato che le immagini delle barelle che trasportano le vittime del conflitto sarebbero in realtà una farsa dal momento che un video girato a Gaza dimostra che delle persone che dovrebbero dall'immagine essere decedute in realtà si muovono al di sotto del telo che le copre l'accusa insomma è che la popolazione palestinese avrebbe inscenato dei finti eventi funebri per attirare l'attenzione mediatica internazionale in realtà il video in esame è stato girato nel 2013 di Cinegitto quindi anno diverso e luogo diverso e mostrava una manifestazione di protesta organizzata da alcuni studenti universitari dunque anche contesto totalmente diverso non è tra l'altro l'unico caso di disinformazione di questo tipo perché è anche circolato un altro filmato sullo stesso tema ma in qual caso si trattava di un video girato da alcuni giovani nel 2020 in Giordania per aggirare le norme anti-Covid dunque anche qui tutt'altro contesto momento e anno quindi possiamo dire insomma che le foto dei bambini vengono usate per ingigantire il messaggio di denuncia delle violenze che subisce la popolazione palestinese e specularmente ci sono messaggi appunto che fanno vedere funerali che non sono veni funerali morti che non sono veri morti che vogliono invece sminuire appunto le sofferenze della popolazione palestinese non commentiamo appunto come abbiamo detto la situazione però possiamo sicuramente condannare questo tipo di disinformazione in una situazione già drammatica di suo non ci sembra davvero ci sia la necessità di andare a intorbidire ulteriormente le acque ma andiamo infine a parlare delle notizie incorrette che sono circolate sui social network italiani che hanno riguardato sia altri paesi diversi da Israele e Palestina sia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sì allora partendo dagli altri paesi ad esempio è stato erroneamente sostenuto che su delle piramidi egizie nei giorni scorsi sia stata proiettata la bandiera palestinese in segno di solidarietà si tratta di una notizia falsa smentita tra l'altro dal direttore del sito archeologico dell'altopiano di Gisa altro caso di disinformazione che in realtà è stato associato al conflitto in corso ma riguarda un altro paese è quello che ha visto la pubblicazione di un video che mostrava una serie di razzi e stando a quanto denunciato da chi l'ha pubblicato mostrerebbe dei razzi lanciati nella notte da Gaza verso Israele in realtà è un firmato reale però girato in Siria nel 2018 infine chiudiamo come anticipato con un caso politico parlando di Benjamin Netanyahu allora il 12 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato il testo di un presunto discorso che il primo ministro israeliano avrebbe pronunciato e indireziato a Ismail Aniyah principale leader di Hamas ed ex primo ministro dell'autorità palestinese e in generale indirizzato ai leader e agli agenti operativi di Hamas in questo presunto discorso Netanyahu avrebbe detto che Israele ha un enorme debito di gratitudine verso Hamas perché avrebbe unito il popolo ebraico come una persona con un cuore solo contro un nemico che ha giurato il genocidio del nostro popolo per questo motivo Netanyahu avrebbe offerto intorno appunto al 12 di maggio un'ultima chance ad Hamas perché tutti i lanci dei razzi cessassero entro 24 ore e in caso contrario Israele avrebbe promesso di entrare all'interno della parte settentrionale della striscia di Gaza e di non abbandonarla più in realtà tutto questo discorso è una notizia falsa di per sé e che tra l'altro circola da tempo cioè la notizia del discorso pubblico di Netanyahu e il relativo ultimatum non compare infatti e non è comparsa su alcuna testata internazionale e attraverso una ricerca su Google abbiamo scoperto che degli stralci di questo testo sono disponibili online già a partire dal 2014 quindi anni fa come tra l'altro hanno spiegato ricostruito dei colleghi fact checker di Usa Today il finto discorso è stato inventato da un blogger che originariamente ha pubblicato il testo l'8 luglio 2014 su uno spazio digitale online pochi giorni dopo questo blogger aveva giustificato l'invenzione del discorso con la volontà di diventare virale condividendo una falsa notizia su internet cosa che spesso succede dall'intento principale di chi purtroppo fa di lavoro o meno disinformazione il 13 maggio 2021 il blogger è stato contattato perché aveva aggiornato il suo blog con un articolo intitolato ho creato un mostro in cui raccontava di aver provato un piacere colpevole ed è un virgolettato per il successo della sua opera tornato in auge dopo le recenti escalation di violenza dunque nulla di vero nel presunto discorso di Netanyahu e si tratta di un contenuto inventato anni fa nel 2014 da un utente del web che ha ammesso di aver inventato una notizia falsa per diventare in qualche modo di tendenza o virale e grazie Camilla veniamo allora alla sezione dedicata a scienza e medicina con Massimo Sandal ciao Massimo allora oggi ci occupiamo di quella che potrebbe essere da un lato una notizia bomba dall'altro la notizia candidata a farci sentire peggio del 2021 cioè c'era già la cura per la covid-19 a inizio pandemia ovviamente trattandosi di una notizia di questo genere ho già tutti i peletti ritti sul coppino e mi immagino che le cose non siano esattamente come ce le hanno raccontate dici tutto ciao Tombaso sì sei stato facile profeta non è infatti così che stanno le cose questa tesi l'abbiamo vista circolare di fatto parecchio sui social però si basa fondamentalmente su malinteso infatti cosa succede è che alcuni sono andati a scavare hanno recuperato il piano per la gestione delle pandemie che era stato preparato nel 2006 e secondo loro leggendo questo piano si sono detti ah ma questo piano non è stato seguito perché il piano consigliava di distribuire cure antivirali e non prevedeva le mascherine restrizioni anzi hanno sconsigliate e insomma quindi non aver seguito questo piano dall'altro avrebbe portato al dramma che abbiamo vissuto e dall'altro in particolare se avessimo distribuito fin da subito queste cure antivirali il peggio si sarebbe evitato quindi insomma l'esistenza di questo piano pandemico e l'accento che poneva su questi farmaci dimostrerebbero secondo queste persone che in realtà c'erano già delle cure contro la covid-19 cure che il governo italiano avrebbe dovuto fornire e provvedere fin da subito ora questo piano pandemico esiste e tutto tra l'altro è disponibile sul sito del ministero della salute e anche sul sito dell'istituto superiore di sanità però e qui sta il trucco si riferiva esclusivamente e dettagliatamente tra l'altro al rischio di una pandemia influenzale e non di altri virus gli antivirali di cui il piano effettivamente parla in lungo e largo sono i cosiddetti inibitori delle neuroaminidasi al di là del termine tecnico sono semplicemente dei farmaci che disattivano un enzima che è presente nel virus dell'influenza ma è assente nel virus SARS-CoV-2 perché i coronavirus come il virus SARS-CoV-2 e il virus dell'influenza non hanno niente a che fare tra loro l'unica cosa che è nel comune è che entrambi causano malattie respiratorie quindi gli antivirali contro l'influenza sarebbero stati completamente inutili tra l'altro questa è una cosa tra parentesi che alcuni ricercatori hanno investigato per controllare perché si sa mai e effettivamente non servono a niente contro il SARS-CoV-2 e allo stesso modo le famose terapie antivirali che sono state tentate all'inizio pandemia come la ormai celebra di la idrossiclorochina ci sono rivelate pressoché tutte purtroppo un fallimento quindi ecco tutto si basa su un grosso malinteso però diciamo gli antivirali sono solo una parte di questo piano del 2006 il resto sarebbe stato una buona idea applicarlo lo abbiamo applicato oppure no cosa diceva il piano di preciso allora versione breve non l'abbiamo applicato e abbiamo fatto bene versione lunga è vero che nel piano del 2006 c'era scritto tra l'altro che cito qui tra virgolette in fase pandemica l'impatto di misure di restrizione della mobilità della popolazione è limitato chiuso in virgolette e inoltre dice anche che le mascherine andrebbero usate soltanto per le persone che hanno bisogno di assistenza medica e non per le persone asintomatiche però in questo caso il piano era intorto perché quale che fosse il consenso scientifico su come gestire le pandemie nel 2006 tenendo conto che sono passati ormai 15 anni e ci sono stati molti studi successivi a quella data e anche ben prima della pandemia di covid-19 era stato evidenziato da molte ricerche che in realtà il distanziamento sociale fosse davvero un intervento di successo nel contenere le pandemie di virus respiratori tra l'altro anche i virus influenzali infatti sono stati fatti studi in merito sull'epidemia di influenza del 2009 in Messico o analisi su cosa è successo nelle pandemie del passato come nella famigliata spagnola di influenza del 1918 quindi la decisione di imporre misure di distanziamento sociale non è stata presa a casaccio deriva da numerosi studi ed è stata poi tra l'altro confermata ulteriormente a posteriori dagli studi che sono stati fatti durante la pandemia per quanto riguarda le mascherine all'inizio della pandemia di covid-19 abbiamo fatto proprio quello che diceva il piano cioè infatti raccomandavamo di usarle soltanto se si era malati se si era in presenza di evidenti sintomi ma come tra l'altro hanno ricostruito alcune riviste scientifiche le evidenze sulle mascherine e sul ruolo degli asintomatici si sono accumulate nei mesi seguenti alla pandemia quindi durante la prima fase è cambiato diciamo il consenso scientifico e quindi è cambiata conseguentemente anche la politica dei governi e non solo la questione delle mascherine me la ricordo perché anche noi fact checkers abbiamo dovuto verificare dichiarazioni di politici che riguardavano l'uso delle mascherine visto che noi nelle nostre analisi utilizziamo quelle che sono le fonti istituzionali che riportavano quindi appunto il consenso scientifico del momento abbiamo visto che questo consenso è cambiato le fonti istituzionali hanno aggiornato le proprie informazioni di conseguenza anche la politica ha recepito questa innovazione questo cambiamento che c'è stato e quindi magari dei verdetti che avevamo dato a inizio pandemia sulle base delle informazioni ufficiali disponibili al momento si sono poi rivelati magari sbagliati nel corso appunto dei mesi seguenti ma adesso cambiamo argomento e veniamo a quella che per me da milanista è una pagina dolorosa a prescindere cioè lo scudetto dell'Inter e parliamo di una questione che rischiava di essere dolorosa ma sembrerebbe che invece non lo sia stata cioè i festeggiamenti per questo scudetto dell'Inter probabilmente molti dei nostri ascoltatori avranno visto le immagini di Piazza Duomo a Milano cremita di tifosi con le bandiere molti senza mascherina molti che bevano la birra festeggiavano insomma tutto quello che è un po' il normale carosello che si fa quando appunto una delle squadre della città vince lo scudetto in questo caso purtroppo l'Inter e ricordo che appunto per esempio Pregliasco virologo dell'università degli studi di Milano l'aveva giudicata e lo cito un'intemperanza inutile che potrebbe determinare un po' di guai o Locatelli presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del CTS aveva detto e di nuovo apro le virgolette non possiamo permetterci queste immagini vanno evitati gli assembramenti ora diciamo che il giudizio negativo ah ma com'è possibile abbiamo tenuto chiuse le persone e abbiamo costretto i ristoratori a chiudere per mesi e poi si vedono queste scene è come dire condivisibile proprio da un punto di vista umano e del buon senso però invece da un punto di vista scientifico ti chiedo se queste celebrazioni hanno oppure no avuto poi un impatto negativo sull'andamento dei casi guarda una volta tanto abbiamo avuto una sorpresa positiva in questo caso perché è vero che quegli assembramenti del 2 maggio a Milano avevano messo in allarme numerosi esperti quelli che hai citato ma anche molti altri ma per fortuna se uno guarda i numeri del contagio sembra che per ora sia scampato pericolo nel senso che se uno va a vedere l'andamento dei nuovi contagi sia in Lombardia sia nella provincia di Milano non sembra non si vede perlomeno nessun picco di nuovi contagi e sembra anzi che il trend continui per fortuna ad andare in discesa quindi per quello che ci dicono i numeri è andato tutto bene apparentemente e speriamo davvero che anche nel prossimo futuro i numeri continuino a confermarci in questa appunto soluzione positiva di quello che invece poteva essere un evento negativo ma a questo punto però mi viene da chiedere possiamo dire che assembramenti anche appunto di migliaia decine di migliaia di persone se fatti all'aperto magari non in una come dire situazione chiusa come può essere uno stadio ma più aperta come può essere appunto una piazza e magari appunto senza un affollamento eccessivo insomma non lo so con le caratteristiche che poi ha avuto il festeggiamento dello scudetto dell'Inter sono non tanto pericolosi non sono pericolosi per niente e via dicendo guarda dal punto di vista scientifico su questo veramente non c'è ancora assolutamente chiarezza sappiamo che non sono esempi da rischi sappiamo che all'estero ci sono stati eventi in cui ci sono stati contagi durante assembramenti d'aperto ma sappiamo anche che in generale tendono ad essere molto meno rischiosi di eventi analoghi al chiuso in Italia ci sono stati due esempi controposti prima di questo caso degli festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter c'è stata la promozione in serie A dello Spezia che tra l'altro è la città dove sono nato quindi sono stato anche molto contento che ha provocato un sacco di assembramenti il 20 agosto 2020 e a questo è seguita effettivamente ma si vede bene sui grafici una piccola ma significativa ondata di contagi proprio 14 giorni dopo l'evento quindi sembra proprio corrispondere ai festeggiamenti per la promozione in serie A viceversa però se andiamo a Napoli 25 novembre 2020 ci sono stati assembramenti manifestazioni di cordoglio per la morte di Diego Armando Manardona a cui non sono seguiti assolutamente apparenti aumenti dei contagi da covid-19 quindi cosa è cambiato tra la Spezia e Napoli in realtà nessuno lo sa in questo momento probabilmente dipende da molti fattori può essere la ventilazione può essere cosa fanno le persone prima e dopo essere state in piazza se si incontrano in luoghi chiusi o meno non si sa tutto quello che si può dire è che se è andata bene un paio di volte ma è andata meno bene un'altra vuol dire che probabilmente non si possono definire completamente sicuri almeno affinché non capiamo quali fattori entrano in gioco in questo discorso quindi nel dubbio il consiglio che noi diamo ai nostri ascoltatori è evitate di partecipare a festeggiamenti assembramenti di questo genere che per carità tutti quanti non vediamo l'ora di poter tornare alla normalità ma nel dubbio visto che potrebbe andare anche a fortuna o sfortuna o elementi assolutamente imprevedibili è che al momento sfuggono alla nostra comprensione al nostro controllo meglio un atteggiamento prudente grazie Massimo grazie Tommaso aggiungerei soltanto che appunto per tornare alla normalità forse è proprio il caso di stare un pochino più attenti adesso che siamo come dire in una fase in cui si spera che i vaccini poi ci portino alla conclusione dell'emergenza e quindi insomma è proprio il momento di fare i bravi per evitare di tirarla troppo per le lunghe stringiamo i denti e un ultimo sforzo alla prossima puntata Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici FACTA è il nostro progetto di debunking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e facta.news e sui nostri canali social twitter facebook e instagram per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast il podcast di Pagella Politica è stato scritto questa settimana da Tommaso Canetta Camilla Bagnozzi e Massimo Sandal ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci io sono Tommaso Canetta e questo era il podcast di Pagella Politica e il podcast di Pagella